Salve a tutti, in questo video vorrei parlare della presunta lentezza dell'esercito russo. Cercheremo di porci questa domanda se la lentezza dell'esercito russo sia reale o presunta. In particolare svolgerò la tesi secondo cui la Russia procede con relativa lentezza nella conquista dei territori ucraini per una scelta ben precisa. Più in particolare questa è la mia tesi per perseguire sei obiettivi fondamentali. Quindi lo ripeto la mia tesi è che l'esercito russo stia volutamente procedendo con lentezza pur potendo procedere speditamente perché attraverso la lentezza persegue sei obiettivi fondamentali. Come sempre leggerò un articolo che ho pubblicato sul Fatto Quotidiano e durante la lettura dell'articolo ogni tanto farò delle pause per fare riflessioni eventuali integrazioni. Prima di esporre la mia tesi, prima di passare alla lettura dell'articolo vorrei fare alcuni ringraziamenti. In genere li faccio alla fine e questa volta li faccio all'inizio anche perché devo parlare di alcune novità che riguardano il sito sicurezza internazionale.com so che gli abbonati di sicurezza internazionale.com il sito di cui sono direttore seguono questo canale io li ringrazio con tutto il cuore sia di seguirmi su questo canale youtube sia anche di aver sottoscritto un abbonamento a sicurezza internazionale.com anche perché sicurezza internazionale.com per una scelta non ha pubblicità non ha finanziamenti esterni quindi noi per essere realmente indipendenti ci affidiamo soltanto agli abbonati e quindi vorrei ringraziare tutti coloro che abbonandosi hanno reso possibile il mio sogno di creare un quotidiano interamente dedicato alla politica internazionale. Sicurezza internazionale.com è il primo sito in Italia per il numero di articoli pubblicati sulla politica internazionale ne pubblichiamo oltre 400 al mese e una volta al mese io svolgo una diretta con gli abbonati di sicurezza internazionale.com i quali hanno la possibilità di inviarmi le domande io le leggo rispondo poi verso la fine della diretta e conversiamo anche il piacere di conoscere personalmente gli abbonati di sicurezza internazionale.com generalmente durante queste dirette che durano 60 minuti ho la possibilità di spiegare dettagliatamente quello che stia accadendo su tutti i principali fronti in Ucraina e non soltanto chiaramente una diretta di 60 minuti mi dà la possibilità di fare approfondimenti qual è la novità? La novità è che con mio grande onore ci sono studenti di tutte le università italiane che sono abbonati a sicurezza internazionale.com alcuni studenti sono studenti delle scuole superiori questo per me è un grande onore quindi ho deciso di realizzare una diretta questa si svolgerà il 15 gennaio dalle 20 alle 21 dedicata esclusivamente agli studenti abbonati a sicurezza internazionale.com quindi in quell'occasione avrò la possibilità di conoscere direttamente questi ragazzi di ringraziarli di rispondere alle loro domande sulla politica internazionale di interagire con loro di ascoltare eventuali domande che mi faranno sulle loro tesi di laurea o sui loro studi insomma sarà un'occasione di confronto molto aperta molto libera ma comunque un'occasione per parlare di politica internazionale e più in particolare di sicurezza internazionale e vengo adesso alla mia tesi la mia tesi appunto è una controtesi la mia tesi è che la russia proceda con lentezza perché utilizza la lentezza come un'arma contro l'ucraina e più in generale contro la nato perché si tratta di una controtesi perché la tesi dominante come sapete è la tesi della propaganda occidentale che viene diffusa dai media dominanti cosiddetti media dominanti che sono corrotti dalla testa ai piedi perché come ho documentato ampiamente su questo canale mi diverto a utilizzare questo canale per raccogliere prove empiriche a conferma di questa mia tesi e cioè che il sistema di informazione in italia sulla politica internazionale sia corrotto dalla testa ai piedi e siccome è corrotto dalla testa ai piedi ha sempre ritratto l'esercito russo come un esercito di cartone i soldati russi come dei morti di sonno che non vogliono combattere e lo sviluppo dei combattimenti sul campo ha smentito completamente questa rappresentazione falsa e grottesca dei fatti i russi sono determinatissimi vogliono vincere questa guerra combattono ferocemente in ucraina perché sentono di combattere una guerra esistenziale per la vita o per la morte in quanto i russi vedono la presenza della nato e le armi della nato al confine con la russia come una minaccia esistenziale e il fatto che le armi della nato abbiano ucciso così tanti soldati della russia e il fatto che l'ucraina con il sostegno della nato abbia colpito il territorio russo ha concretizzato ha dato corpo a queste paure quindi più che mai i russi sono determinati a combattere a vincere questa guerra perché vogliono allontanare la nato dall'ucraina la mia è una contratesi perché al contrario sostengo a che in questo momento l'esercito russo è probabilmente l'esercito più potente del mondo e per due ragioni fondamentali la prima è che la russia sta facendo investimenti spaventosi nella difesa appunto per fronteggiare la minaccia della nato in ucraina e non soltanto e la seconda ragione è che i soldati russi sono coinvolti in una battaglia in una guerra scusate in una guerra difficilissima complicatissima e quindi sono molto addestrati si stanno addestrando mentre i soldati americani non combattono una guerra tragica come quella che i russi stanno combattendo in ucraina da tanti anni quindi in questo momento l'esercito russo ha i soldati più preparati i migliori strateghi e anche una dotazione militare semplicemente impressionante perché stanno appunto facendo investimenti spaventosi nella difesa nell'esercito e b l'esercito russo è un esercito molto forte un esercito fortissimo probabilmente più forte del mondo in questo momento perché combatte con una grande motivazione esattamente il contrario di quello che i corrottissimi mezzi di informazione hanno sostenuto finora e cioè che i russi fossero completamente demotivati no e la forza dell'esercito russo è accresciuta dall'enorme motivazione con cui i russi combattono in ucraina contro la nato perché come tutti ormai hanno capito questa è una guerra della nato contro la russia svolte queste premesse fondamentali prima di leggere l'articolo devo dire un'ultima cosa per chiarire il mio pensiero qual è la ragione per cui i corrottissimi mezzi di informazione in italia hanno sempre ritratto l'esercito russo come un esercito debole adesso la tesi appunto l'esercito russo siccome l'esercito russo sta scassando l'ucraina a destra e a manca e adesso la nuova tesi è l'esercito russo è debole perché lento quindi non c'è più l'argomento i russi non hanno voglia di combattere dopo che hanno preso bakhmut quella mattanza spaventosa i russi hanno conquistato bakhmut nella battaglia più importante e più difficile della guerra adesso hanno conquistato anche marinka tante altre conquiste la propaganda occidentale non utilizza più l'argomento i russi non hanno voglia di combattere adesso la nuova tesi la nuova tesi per manipolare l'opinione pubblica è la russia è lenta perché debole adesso spiegherò che la russia è lenta perché forte e utilizza la lentezza come un'arma perché può permettersi il lusso di essere lenta e la ragione per cui i media occidentali ritraggono l'esercito russo come un esercito di morti di sonno è perché devono creare consenso intorno alla guerra il messaggio che i corrottissimi media mandano e agli italiani e non soltanto stare tranquilli fate un po di sacrifici perché anche se le bollette sono alle stelle anche se tutti noi ci stiamo impoverendo anche se le nostre imprese soffrono a causa a causa della guerra a causa delle sanzioni contro la russia stare tranquilli perché la russia sarà sconfitta in pochissimo tempo perché un esercito di cartone svolto queste premesse vengo alla lettura dell'articolo l'articolo si intitola putin vince con lentezza la nato ignorante perde cerchiamo di capire il senso di questo titolo che non ho scelto io ovviamente dopo avere dissanguato l'esercito per conquistare quasi niente zelensky sta perdendo pure quello ad agosto l'ucraina aveva ripreso il villaggio di rabotino al prezzo di migliaia di morti nell'oblast di zaporizia muovendo da rabotino zelensky giurava di marciare su tokmak e melitopol per riconquistare il mardazov gli ucraini avrebbero spaccato l'esercito russo in due impedendo alla crimea di ricevere rifornimenti dalla madrepatria caduta la crimea putin avrebbe supplicato zelensky in ginocchio di non imporgli una pace troppo umiliante e invece gli ucraini non si sono mai mossi da rabotino questo fatto di per sé ipertragico basterebbe a chiudere ogni discorso sulla sconfitta della nato ma le cose sono andate addirittura peggio mentre scrivo i russi hanno deciso di riprendersi pure rabotino il quasi niente costato quasi tutto agli ucraini dissi che la controoffensiva sarebbe stato un fallimento colossale che avrebbe dissanguato l'esercito ucraino esponendolo esponendolo alla contro controoffensiva russa quindi lo ripeto dissi che la controoffensiva sarebbe stato un fallimento colossale che avrebbe dissanguato l'esercito russo che avrebbe dissanguato l'esercito ucraino scusate esponendolo alla contro controoffensiva dell'esercito russo quindi ricordo a tutti che prima della controoffensiva quando io dicevo questa controoffensiva non sa da fare perché gli ucraini ne usciranno massacrati venivo violentemente insultato aggredito calunniato e diffamato e come sempre dico la mia storia personale a me interessa soltanto come filtro sociologico per comprendere meglio il livello di corruzione dei mezzi di informazione in italia sulla politica internazionale quindi dissi che la controoffensiva sarebbe stato un fallimento colossale che avrebbe dissanguato l'esercito ucraino esponendolo alla contro controoffensiva russa è quel che sta accadendo quando politici e media ritraevano la russia come un esercito di cartone perché non ha conquistato l'ucraina in tre giorni spiegavo che quella lentezza era intenzionale poiché perseguiva sei obiettivi il primo obiettivo era di concedere all'esercito ucraino il tempo di crollare i generali russi procedono lentamente perché preferiscono conquistare il maggior numero possibile di territori contro un esercito esangue e demotivato infatti noi sappiamo che il problema della motivazione è un grande problema degli ucraini non perché lo dica io ma perché lo dice budanov che è uno dei massimi generali ucraini che appunto ha rilasciato un'intervista che io ho pubblicato su sicurezza internazionale punto com in cui appunto dice questo uno dei grandi problemi dell'esercito ucraino uno dei tanti e che i soldati stanno perdendo la motivazione a causa di tutte le sconfitte che stanno subendo perché alcuni forse non hanno ancora capito da quando è scoppiata la guerra gli ucraini non hanno mai vinto una battaglia contro i russi ho spiegato mille volte che i russi non si ritirarono da kherson dalla parte occidentale di kherson perché furono sconfitti in una battaglia contro gli ucraini quella battaglia non c'è mai stata quindi lo ripeto non è mai accaduto dall'inizio della guerra che gli ucraini abbiano vinto una battaglia contro i russi come bakhmut come mariupol come marinca non è mai accaduto e questo dovrebbe far riflettere quindi ripeto primo obiettivo della lentezza era di concedere all'esercito ucraino il tempo di crollare i generali russi procedono lentamente perché preferiscono conquistare il maggior numero possibile di territori contro un esercito esangue e demotivato la russia si è data il tempo di dare il tempo all'ucraina di crollare la presunzione dell'occidente non ha consentito alle lobby della nato che controllano radio televisioni e molti e vari dipartimenti di scienza politica di comprendere il significato tragico della lentezza russa il secondo obiettivo della lentezza era di non infastidire la società civile procedendo un po alla volta putin non ha dovuto avviare una mobilitazione totale che gli avrebbe sottratto consensi la vita quotidiana in russia scorre come sempre e putin viaggia verso la riconferma alle prossime presidenziali qualcuno dirà ma c'è stato belgorod sì c'è stato belgorod sicuramente a belgorod la vita non scorre come sempre perché le bombe ucraine e gli ucraini hanno colpito zeresky ha colpito intenzionalmente come emerge da tutti i dati dall'evidenza empirica ha colpito intenzionalmente i civili e ha ucciso anche dei bambini russi e lo ripeto l'evidenza empirica l'osservazione scientifica l'osservazione emotivamente distaccata della realtà l'osservazione non ideologicamente orientata dice inequivocabilmente che l'attacco su belgorod è stato intenzionalmente un attacco contro i civili contro le strutture civili il secondo obiettivo della lentezza era di non infastidire la società civile quindi sicuramente l'attacco a belgorod ha sconvolto la città di belgorod ma il territorio russo è fondamentalmente illeso sicuramente rispetto a quello ucraino quindi il secondo obiettivo della lentezza era di non infastidire la società civile procedendo un po alla volta putin non ha dovuto avviare una mobilitazione totale che gli avrebbe sottratto consensi la vita quotidiana in russia scorre come sempre e putin viaggia verso la riconferma alle prossime presidenziali il terzo obiettivo della lentezza era di attendere che l'unione europea andasse in recessione come è accaduto come avevo previsto all'inizio della guerra e questo mi è costato tanti insulti violenti e che cosa avevo detto avevo detto la russia non crollerà economicamente l'unione europea andrà in recessione a causa della guerra in ucraina e così è stato e invece il pil della russia cresce lo ripeto l'unione europea è andata in recessione il pil della russia cresce e sorregge lo sforzo bellico mentre l'unione europea non è in grado di sorreggere lo sforzo bellico in ucraina ripeto l'unione europea non è in grado di sorreggere lo sforzo bellico in ucraina l'unione europea non è l'industria militare dell'unione europea cioè fondamentalmente l'industria militare della nato non è in grado per stessa missione della nato di reggere la produzione industriale militare della russia e non lo dico io e non lo dico io lo dicono i vertici dell'unione europea dicono noi non siamo in grado di rifornire l'ucraina delle munizioni per l'artiglieria di cui ha bisogno l'unione europea si è impegnata a consegnare all'ucraina un milione di proiettili ne ha consegnati soltanto 300.000 la russia invece non ha problemi perché l'industria militare della russia è molto superiore e sovrastante rispetto all'industria militare dell'unione europea quindi il terzo obiettivo della lentezza russa era di attendere che l'unione europea andasse in recessione come accaduto il quarto obiettivo era di attendere la crisi dell'industria militare dell'unione europea che si è verificata l'unione europea non riesce a dare a zelensky la protezione aerea di cui ha bisogno come dimostra l'ultima pioggia di missili caduta sugli ucraini da carri armati agli f-16 dalle batterie antiaerea alle munizioni per l'artiglieria l'industria militare europea non regge il passo di quella russa il quinto obiettivo della lentezza russa era di il quinto obiettivo della lentezza russa era di non precipitare l'occidente nel panico lanciando un assalto fulminio con un milione e mezzo di soldati una mossa così rapida avrebbe diffuso il panico in europa aumentando il rischio della sua partecipazione diretta al conflitto con l'invio di truppe quindi il quinto obiettivo della lentezza russa era putin non ha voluto precipitare il panico non ha voluto precipitare l'unione europea nel panico perché chiaramente se avesse invaso l'ucraina se invadesse oggi l'ucraina con un milione e mezzo di soldati e la si potrebbe farlo questo chiaramente rafforzerebbe il partito dei falchi mentre putin ha un interesse ad rafforzare il partito di coloro che vogliono trovare una soluzione diplomatica alla guerra in ucraina il sesto obiettivo della lentezza di putin è di dare il tempo alla russia di attrezzarsi per la terza guerra mondiale come sta facendo la lentezza della guerra in ucraina favorisce la velocità del riarmo in russia molti non hanno capito questo punto fondamentale che la russia in questi anni si è preparata alla guerra contro la nato in ucraina ma la nato non si è preparata alla guerra contro la russia in ucraina e lo vediamo perché la nato non è in grado di sorreggere lo sforzo bellico in ucraina adesso la russia si sta preparando per combattere la terza guerra mondiale contro la nato però questo nessuno lo spiega perché siccome i mezzi di informazione sulla politica internazionale in italia sono corrotti dalla testa ai piedi nessuno lo dice perché se qualcuno lo dicesse verrebbe fuori che cosa che la classe dirigente dell'unione europea è una classe di corrotti e di incapaci e siccome gli stessi corrotti e incapaci che hanno precipitato l'ucraina in questo inferno ambiscono a diventare chi presidente della commissione europea chi segretario della nato i corrotti mezzi di informazione non spiegano non spiegano che la russia si sta preparando alla terza guerra mondiale con la nato questo non vuol dire che scoppierà la terza guerra mondiale tra la nato e la russia speriamo mai significa semplicemente che la russia si sta preparando perché la russia ha una classe dirigente più vitale rispetto alla classe dirigente dell'unione europea perché quando io dico che è una classe dirigente corrotta l'ho spiegato mille volte utilizzo questa espressione nel senso inteso da bilfredo pareto c'è una classe dirigente corrotta è una classe dirigente decadente è una classe dirigente decadente è una classe dirigente che non è in grado di fronteggiare la lotta per la sopravvivenza la lotta per la vita e la classe dirigente russa è più vitale di quella dell'unione europea sulla base di quali fatti documentati poggio questa affermazione sulla base di quello che vi ho detto finora siccome la classe dirigente russa in tutti questi anni si è preparata a combattere in ucraina contro la nato è più vitale della classe dirigente dell'unione europea che una classe dirigente di corrotti e di incapaci totale e allora i mezzi di informazione in italia non spiegano che la russia si sta preparando alla terza guerra mondiale con la nato tutti i dati dicono questo tutti gli investimenti che la russia sta facendo nella difesa la quantità enorme di soldati che stanno arruolando per un esercito gigantesco e le munizioni che sta producendo il tipo di accordi militari che sta stringendo con una serie di paesi il tipo di politica che sta facendo sul petrolio e così via tutti questi dati oggettivi inducono a ritenere che la russia si stia preparando alla terza guerra mondiale anzi dovrebbe essere più preciso tutti questi comportamenti manifesti della russia dicono chiaramente non è che inducano a ritenere dicono chiaramente che la russia si sta preparando alla terza guerra mondiale contro l'occidente contro la nato e chiaramente ha un vantaggio perché l'unione europea è guidata da un gruppo di corrotti e di incapaci quindi il sesto obiettivo della lentezza di putin è di dare il tempo alla russia di attrezzarsi per la terza guerra mondiale come sta facendo la lentezza della guerra in ucraina favorisce la velocità del riarmo in russia un giorno i draghi i calenda e compagnia bella capiranno la ragione della lentezza russa ovviamente a draghi va spiegata e va spiegata che draghi non lo capisce da solo infatti se voi sentite gli interventi di draghi sulla guerra in ucraina vi rendete conto di che cosa sia una classe dirigente decadente e corrotta nel senso inteso da quel grande genio quel grande italiano che è stato vilfredo pareto la grande mente di vilfredo pareto se poi qualcuno di voi volesse approfondire questo discorso sulle classi dirigenti decadenti le classi dirigenti corrotte se vorrà potrà leggere il mio libro teoria sociologica classica e contemporanea in cui ho dedicato un capitolo approfondito al pensiero di vilfredo pareto e in particolare alla sua teoria della decadenza e circolazione o la sua teoria della circolazione e decadenza delle elite un giorno i draghi i calenda e compagnia bella capiranno la ragione della lentezza russa bisognerebbe spiegarla anche al corriere della sera che fa parte della classe dirigente europea al giornale al libero al foglio alla repubblica e a tantissimi altri quotidiani tuttavia la comprensione richiede che l'occidente si liberi dei propri complessi di superiorità in stile corriere della sera che lo inducono che inducono l'occidente questi complessi di superiorità inducono l'occidente a vedere gli altri popoli come inferiori ignoranti arretrati e dipendenti dall'economia europea salvo scoprire che l'europa in recessione dipende dalla russia più di quanto la russia dipenda dall'europa ora una classe dirigente vitale che ho detto è una classe dirigente in grado di fronteggiare con successo la lotta per la sopravvivenza in un ambiente ostile come l'arena internazionale se però una classe dirigente ha complessi di superiorità e questo è un bel problema perché i complessi di superiorità fanno perdere il contatto con la realtà e se una classe dirigente perde il contatto con la realtà non è più in grado di misurare correttamente i rapporti di forza e se non è in grado di misurare correttamente i rapporti di forza è la nostra classe dirigente ci precipita in un inferno ci precipita in altre parole in guerre che non possiamo vincere come la guerra in ucraina contro la russia quindi rimanere con i piedi per terra avere senso della realtà significa anche avere senso di responsabilità consente di fare calcoli più precisi stime più precise per evitare disastri esattamente quello che ho fatto nel primo giorno di guerra ho detto guardate che le cose andranno in questa direzione e in quella direzione purtroppo sono andate ringrazio tutti coloro che si sono iscritti a questo canale youtube se vedo bene ha raggiunto i 107 mila iscritti quindi questo è un ringraziamento particolare in una data particolare perché oggi il mio canale youtube compie credo un anno un poco più credo che esista dal dicembre del 2022 qualcosa del genere quindi credo che siano 107 mila iscritti questo per me è un grande onore è un gesto di grande solidarietà di grande affetto di grande vicinanza di cui sono molto grato come sapete i miei video non hanno pubblicità per una mia scelta mi è stato offerto di inserire le pubblicità dietro compenso ma io ho scelto di non monetizzare perché ho aperto questo canale youtube per restituire un po' dell'affetto che ricevo e colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno un canale youtube e utilizzano le pubblicità non assolutamente niente contro le pubblicità anzi ringrazio questi questi canali che creano posti di lavoro e che creano libera informazione in molti casi e quindi ci tengo a precisare che non ho asso anzi sono addirittura favorevole alle pubblicità nei video nella misura in cui queste pubblicità consentono appunto di creare lavoro di creare ricchezza però i miei video non hanno una pubblicità non hanno pubblicità per una mia scelta appunto perché come dire ringraziamenti in questo caso sono gratuiti va bene vi ringrazio molto e per quanto riguarda invece gli abbonati di sicurezza internazionale.com la diretta come ho detto dedicata ai soli studenti si terrà il 15 gennaio dalle 20 alle 21 la diretta con tutti gli abbonati di sicurezza internazionale la consueta diretta mensile si terrà credo verso la fine di gennaio e al più presto comunicherò la data precisa e l'orario credo che sarà sempre dalle 19 alle 20 grazie davvero e a presto